Le truffe dei viaggi last minute sono sempre più numerose. Fondamentale, dicono gli esperti, a mantenere una sana dose di scetticismo nell'approccio al mondo online e seguire alcuni semplici consigli come non lasciarsi tentare da prezzi troppo bassi e quindi realistici, controllare le recensioni degli utenti che hanno già usufruito della struttura, scambiare informazioni e comunicazioni con la struttura esclusivamente sulle piattaforme ufficiali, utilizzare solo metodi di pagamento affidabili. Tuttavia a volte l'attenzione non è sufficiente. Cosa fare allora quando ormai il peggio è capitato? Dinanzi alla rabbia per non essersi resi conto dell'inganno può capitare persino che si arrivi a dubitare della propria capacità di discernimento fino a colpevolizzarsi per l'accaduto. Gli esperti ricordano che esistono particolari momenti della vita, periodi di stanchezza, preoccupazione o fragilità in cui può succedere di non prestare attenzione a dettagli fondamentali. In questo caso occorre raddoppiare l'attenzione se si cade vittima di truffe avvertire immediatamente le forze dell'ordine per quanto riguarda l'online, in particolare la polizia postale.